La Mercedes-Benz classe G è un veicolo prodotto dal 1979, un fuoristrada conosciuto in alcuni paesi europei come Puts G. La G sta appunto per Gelandewagen, cioè fuoristrada. Mercedes classe G, design interni. La Mercedes classe G è da sempre un fuoristrada moderno ed elegante, ma anche robusto ed efficiente, l'idea alla base della sua commercializzazione è coniugare lusso e libertà. Ancora oggi, giunta alla sua terza generazione nel 2018, resta un'icona nel segmento delle fuoristrada vere, nell'off-road davvero. Impegnativo è inarrestabile, mentre il confort e il comportamento su strada sono migliorati. La vettura è piuttosto esclusiva e che fa parte del parco auto di diverse star del cinema e della musica. Una sua particolarità è che si evolve senza modifiche estetiche di rilievo. L'auto infatti è cresciuta nelle dimensioni più 12 cm in larghezza e più 5 in lunghezza, ma è diminuita di ben 170 kg. Come è possibile? Il trucco sta nella scelta di materiali più leggeri, alluminio e acciai speciali, ma più rigidi. Per questo la rigidità torsionale è aumentata del 55%. Ma ci sono variazioni anche sotto la carrozzeria. Si comincia con il telaio a traverse e lungheroni, la trazione 4x4 con tre blocchi del differenziale e le marce ridotte. Anche le sospensioni posteriori sono state modificate, è stato infatti mantenuto il ponte rigido, affinato però con quattro bracci e una barra pamard. Quelle anteriori restano quadrilateri deformabili. Se fuori non cambia, dentro sì, l'abitacolo è più spazioso, seppur sempre spigoloso, ma più curato e tecnologico con i due schermi affiancati. Per strumentazione e infotainment. Mercedes classe G, motori e prestazioni. La gamma motori della nuova Mercedes classe G offre solo un benzina 4,0 V8B turbo con 421 cavalli con cambio automatico 9 G-Tronic, 9 marce più ridotte. Chi vuole il massimo può optare per la top di gamma 63 AMG, che monta lo stesso motore portato a 585 cavalli. Per i diesel c'è il 3,0 CC con 286 cavalli, oppure la versione Stronger Dentime che ne ha 330. Più alta da terra di 6 mm, per un totale di 24. Altezza minima, ora può affrontare guadi da 70 cm più 10 rispetto a prima. Sono cambiati anche gli angoli d'attacco, 31 gradi, di dosso, 30 gradi, e di uscita, 26 gradi. In aggiunta troverete anche il G-Mode, un dispositivo che interviene adattando risposta di motore, sterzo e sospensioni sulla base. Delle marce ridotte o dei blocchi del differenziale. Normalmente la trazione 4x4 ripartisce il 60% della potenza sull'asse posteriore e il 40% su quello anteriore. Mercedes classe G, allestimenti e prezzi. Gli allestimenti della nuova Mercedes classe G sono 3, sport, strumentazione interamente digitale premium, cruise control adattativo, monitoraggio angolo cieco e tetto apribile premium plus, funzione massaggio sedili edition 1, solo AMG, esteticamente più sportiva. Con ruote da 22 di serie climatizzatore trizona, fari full led, gancio traino e sedili riscaldabili, ma ci sono moltissimi optional. Tra cui scegliere, dall'estintore più Euro 153, al sistema audiovisivo posteriore più Euro 2.440, e moltissimo altro.